Ben trovati sabato primo dicembre ed è il primo appuntamento con la nostra informazione che viene coordinata dalla regia da Donato Mignogna. In apertura parliamo delle elezioni regionali perché il presidente della regione Lazio Renata Polverini riapre i giochi proponendo il 10 e l'11 febbraio come data delle elezioni. Formigoni si è detto favorevole all'Election Day insieme a Lazio e ora toccherà al governo valutare la possibilità di accorpare anche le regionali di Lombardia e Molise. Sentiamo in proposito Giovanni Di Tota. L'effetto Lazio travolge ancora una volta i disegni della politica e manda gambe all'aria l'ipotesi di votare alle regionali il 10 e l'11 di marzo. Una data questa scaturita dal lungo vertice che qualche settimana fa si era svolto al colle fra il capo dello Stato napolitano, i presidenti del Senato Schifani e della Camera Fini e il Premier Monti. La novità abbattuta dalle agenzie è arrivata dal Viminale dove Renata Polverini ha depositato l'indicazione della data elettorale per il Lazio, 10 e 11 febbraio. Una scelta imposta all'ex presidente della Pisana dalla sentenza con la quale il Consiglio di Stato le aveva impartito l'ultimatum degli ormai famosi cinque giorni. Tempo utile cioè per indire nuove elezioni. Nel Lazio infatti la competenza per la scelta delle consultazioni regionali è attribuita per legge al presidente della Regione. Alle poche righe della notizia arrivata dal Ministero dell'Interno si sono subito aggiunte quelle del governatore della Regione Lombardia. Sono favorevole ad un eventuale accorpamento delle elezioni regionali lombarde a quelle della Regione Lazio, ha fatto sapere Roberto Formigoni. Poco dopo si è aggiunto al coro il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro che con un finalmente Raora ha sintetizzato la sua posizione, resa già evidente dalle sue interrogazioni alla Camera nelle quali aveva chiesto a gran voce al ministro Anna Maria Cancellieri di rendere operative le sentenze del Tar Molise e del Consiglio di Stato. Adesso il governo addettato Di Pietro sia conseguente e fissi nella stessa giornata anche le consultazioni di Lombardia e Molise. Una valutazione che ora aspetta il governo che ha comunque sulla testa quell'aggettivo opportuna, con la quale il Quirinale ha indicato la data del 10 e 11 marzo di un ipotetico voto congiunto fra le tre Regioni. Sull'ipotesi poi di un election day, regionali e politiche, il dibattito si animerà nelle prossime ore. Fatto è che l'eventuale anticipo di un mese scombina anche i giochi e i tavoli, i piani B e gli incasteri vari, spianando la strada, forse anche senza primarie, alla rivincita che soprattutto in due vogliono più di ogni altra cosa. Dalle elezioni regionali alle primarie del centro-sinistra si voterà domani dalle 8 alle 20 per scegliere il candidato premier. Ma nelle ultime ore è esplosa la contrapposizione tra Pierluigi Bersani e Matteo Renzi. Sentiamo in proposito Giovanni Minicozzi. Le primarie sono una festa per la democrazia e devono essere fatte a tutti i livelli per scegliere i candidati da proporre agli elettori. Lo ha affermato la portavoce del Comitato nazionale Bersani, Alessandra Moretti. A dire il vero però, nelle ultime ore il clima di festa è stato guastato dal ricorso presentato ai garanti contro Matteo Renzi per aver utilizzato messaggi a pagamento per la sua campagna elettorale. Clima rovente anche sull'allargamento della partecipazione dei cittadini al turno di ballottaggio di domenica chiesto dal sindaco di Firenze. Si sta creando molta confusione, questo sì, in particolare disinformazione. Si sta cercando, come dire, di dare un messaggio che non è quello attinente alle regole che il Comitato dei Garanti, che rappresenta tutti i cinque candidati, hanno stabilito. Le regole rimangono quelle del primo turno, non esiste una partita di calcio che si gioca con delle regole al primo tempo e regole diverse al secondo tempo. Mi auguro che la gente capisca, può andare a votare domenica chi si è recato al primo turno, invece quelli che hanno ricevuto un ok da parte dei comitati provinciali alle loro giustificazioni potranno farlo, gli altri no. Comunque a sostenere Bersani nel secondo turno ci saranno anche i sostenitori di Nicchi Vendola. Lo ha confermato il coordinatore del suo comitato, Nico Ioffredi. Noi pensiamo che molti degli elettori di Vendola, Puppato e Tabacci possano ritrovare nel programma, nelle idee di Perluigi Bersani, ma anche nella sua persona, nella capacità di governo con lo spirito di innovazione e di cambiamento, nella capacità di essere il garante di una grande coalizione, possano ritrovare un punto di riferimento molto importante. Queste primarie possono anche determinare una spaccatura nel partito a livello nazionale, ma anche regionale? Io credo di no. Noi lavoreremo dal giorno dopo tutti insieme, cercheremo di trovare dei punti in comune e anche di appianare alcune frizioni che si sono verificate, ma che sono anche normali a tutte le campagne elettorali. La competizione porta talvolta anche a questo. Per noi la cosa importante è sottolineare che il PD è il partito delle regole e della Costituzione e dobbiamo essere i primi a rispettarle. Gli ultimi sondaggi danno Renzi in recupero, siete preoccupati per questo? No, assolutamente no. Siamo in recupero anche noi, nel senso che stanno arrivando anche da noi tantissime richieste di persone che vorrebbero votare domenica e che non si sono iscritti. Il Presidente del Consiglio regionale, Mario Pietracupa, ha partecipato al confronto sulle piccole realtà che si è tenuto ad Aosta. Tuteliamo le nostre autonomie speciali, ha affermato, perché è l'unico modo per mantenere il sistema delle regioni, le quali saranno meno attaccabili se lavoreranno insieme in questa direzione. Molisse e Valle d'Aosta oggi danno un segnale al nostro Paese, è concurso Pietracupa e si pongono come esempio di dialogo tra regioni diverse, ma portatrici degli stessi sani principi. Alla termine dell'incontro, Pietracupa e la Presidente del Consiglio Valdostano, Emily Rini, hanno firmato un gemellaggio con il classico scambio di doni. Bene, con questa notizia ci fermiamo, adesso passiamo alla rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it, in evidenza c'è la politica, elezioni regionali si vota il 10 e 11 febbraio 2013, all'Orizzonte si ripropone il duello tra Iorio e Frattura. Il pezzo filmato da Pasquale Di Bello, che scrive il governatore del Lazio, Renata Polverini, ha indicato per il 10 e 11 febbraio 2013 la data delle elezioni regionali del Lazio. D'accordo anche il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Impossibile che il Governo a questo punto possa stabilire una data diversa. Anche per il Molise si va quindi verso il turno unico anticipato. L'accelerazione sulla data porta verso una riproposizione dello scontro Iorio-Fattura per la Presidenza della Regione. Vediamo anche le altre notizie, vertenza operai forestali, scarabbeo, i loro diritti vanno tutelati. Poi c'è la sanità, presentato dal Commissario Basso, il piano sanitario regionale. Assessore Di Sandro dice un colpo mortale per il Molise. La rinascita mentre la rinobrucia, la politica suona la cetra. Vediamo anche le altre notizie, votiamo Renzi, il cambiamento non è mai stato così vicino. C'è l'appello dei comitati pro Renzi. Iofredi, sedi SEL, Bersani e Vendola parlano la stessa lingua. Poi ci spostiamo a Larino, Chuck si gira al carcere detenuti protagonisti di un cortometraggio. Vedete anche le notizie dall'interno, PDL verso l'addio alle primarie. Alfano, decisione la prossima settimana. Passiamo a primo piano Molise. Eccolo qui in evidenza, anche in questo caso c'è la politica. Altro giro di Walzer sulla data delle elezioni. La Polverini ha deciso, il 10-11 febbraio si vota nel Lazio. Iorio e Formigoni sono d'accordo. A rischio dunque l'Election Day, ma l'ultima parola spetta al governo che potrebbe comunque accorpare regionali e politiche. Vediamo le altre notizie. Andiamo a macchia di Sernia. Di Arremotor, futuro nero per i dipendenti. Il mancato accordo di termini merese si ripercuote sullo stabilimento molistano. Chiesta la proroga della cassa integrazione per 64 unità. C'è il rapporto ISAT. Gli effetti della crisi aumentano i disoccupati e le persone in cerca di lavoro. Poi per la sanità avete sentito il piano di basso non piace a Di Sandro. È un colpo mortale per il sistema pubblico, ha detto l'assessore. La cronaca avvistato a Boiano sospese le ricerche del pastore Kosovaro. L'uomo si sarebbe allontanato volontariamente. Adesso a Termoli, condominio di via Ischia, costruttori condannati al risarcimento. Polemiche a Oratino. Iannotti perde altri pezzi. Ora il sindaco è vicino alla capolinea. Andiamo a vedere una notizia che arriva da Vasto. Picchia la moglie per sei anni. Il GIP gli vieta di tornare a casa. Poi il calcio di Lega Pro. Lupi c'è la firma di Petrassi. Per l'Acheb, ultime formalità. E adesso passiamo al quotidiano del Molise. In alto regionali, incredibile, si cambia ancora. Tutto in mano alla Polverini. Per quanto riguarda la sanità, la scura del commissario Basso taglia cinque ospedali. Scompaiono quelli di Larino e Venafro. Ridimensionati i presidi di Agnone e Termoli. Sulla sinistra, che segnalano la rubrica. La firma di Enzo Di Gaetano, teatrino elettorale. Le altre notizie. Da Campobasso la Corte dei Conti va nella nuova sede. Mentre per quanto riguarda l'Università, Medicina, Iorio rassicura gli studenti. Provincia di Campobasso e Comune approvano i rispettivi bilanci. Ieri, Disco Verde in aula. Dai Serni, invece, Palazzo San Francesco. Petrollini è ottimista sulle finanze. Vediamo anche qui lo sport. Lega Pro, Lupi, firma Petrassi. La che ha un passo per la Serie D. Isernia, Fusaro, Barchetta e Gigi Artiaco verso l'addio. Il campionato d'eccellenza, due anticipi. Il Campobasso, 1919, ospita la Matesina. Ora i fatti del nuovo Molise. In evidenza Isernia ha impugnato il decreto del Tar. De Vivo, Barcolla. Poi, per quanto riguarda l'agenzia Sfide, dilucente silurato da Mazzuto. Riferimento anche alla Solagrital. Spariti 30 milioni di euro. Romano, che fine hanno fatto? Alcuni richiami sotto la testata. Sempre per la politica. Pietra Cupa e Patriciello. Scontro tra Cognati per una poltrona in Parlamento. Si va verso il voto. Regionali, Lazio, alle urne a febbraio. Per il Molise, ancora incertezza. Ambiente, biomasse, frattura nel mirino del comitato Matese-Arcobaleno. Ad ora la pagina regionale del tempo. La scuola di basso sugli ospedali. Il commissario taglia il 62% dei posti letto nelle strutture pubbliche e il 38% in quelle private. L'assessore Di Sandro dice che le nostre ragioni sono rimaste inascoltate. Altre notizie. Dai Serni ha indagati per corruzione i responsabili dell'esattoria, mentre in basso regionali rispunta sorpresa all'idea dell'Election Day. La governatrice del Lazio, Polverini, ha indicato i giorni 10 e 11 febbraio per tornare al voto. Adesso la di Serni ha ricorso al Consiglio di Stato contro la rielezione di De Vivo. Problemi ancora per quanto riguarda i collegamenti da Roma Termini a Campobasso. Sei ore da incubo in treno tra i disagi. segnalati la mancanza di posti a sedere. Protesta degli ecodem, che parlano di vettori vecchi e carrozze sporche. Infine Termoli e Montenero insieme per valorizzare le zone di pesca. Uno sguardo al Sannio, che apre con la sanità e con le dichiarazioni dell'assessore Di Sandro. Colpo mortale per la sanità. L'assessore è dunque contro il piano regionale, che prevede la drastica riduzione dei posti letto negli ospedali del territorio. Nelle strutture pubbliche, tagli del 62%, in quelle private del 38%. Arriva la denuncia. A rischio un'assistenza efficace. Ci parla anche delle preparabili elezioni regionali, dunque della data. Poi a centropagina, i serni a ricorso al Consiglio di Stato. L'avvocatura ha presentato un'istanza di revoca dell'ordinanza del TAR, che reintegra il sindaco De Vivo. Maria Teresa D'Achille, dell'IDV. Adesso occorre voltare pagina e amministrare la città. Anche qui, treno Roma-Campobasso, pendolari fermi per ore. La denuncia degli Ecodem di servizi inaccettabili, mezzi sporchi e inadeguati. Adesso andiamo a vedere i quotidiani nazionali. Partiamo dalla Corriere della Sera. L'ILVA produrrà durante la bonifica. Il governo avverte i proprietari dell'acciaieria e dice ora investano per risanare o perderanno l'azienda. Intanto arriva il decreto. Magistrati pronti a ricorrere alla consulta. Per le primarie, Renzi all'attacco. Brogli, Bersani, replica non sabotare. Il tempo. Le primarie del PD finiscono in rissa. 130 mila richieste per votare al ballottaggio, ma i garanti frenano. Renzi dice rischio Brogli. Il segretario una delusione. Bersani replica. Il nemico è la destra. Passiamo dal tempo alla prima di avvenire per il lavoro e la salute. Nel provvedimento del governo, il decreto salva-ILVA, così considerato, varato dal governo, un garante per vigilare sugli adempimenti. Il GIP e la Procura di Taranto, intanto, annunciano battaglia. E vediamo, come tratta la questione, la Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano pugliese, ILVA, decreto e polemiche, ok, da operai e azienda. PM pronti a impugnarlo. Il GIP boccia l'AIA. Il provvedimento, che si chiama così, pesanti sanzioni per le inadempienze. Garante nominato dal Colle. L'Unità. L'apertura dedicata al ballottaggio di domani. L'appello di Bersani a Renzi. Colloquio con il giornale Unità. Non sfregiare le primarie. Il nostro futuro è insieme. Uno sguardo a Libero. I segreti del redditometro 007 del fisco. Svela. Vi spieremo così. Il redditest. Una farsa per far paura. Faremo pesca a strascico tra i cittadini. E verifiche sui conti bancari. E poi c'è il piano B. Guai ha chiusa il contante. Si parla anche di Sallusti. La sfida dice mettetemi in galera. Dunque rifiuta i domiciliari. Il direttore li rifiuta. E ha passato la notte. Tutta questa notte l'ha passata nella redazione del giornale. Ora il manifesto. Il patto d'acciaio. C'è una foto dell'ILVA di Taranto. I Riva con il presidente Ferrante. Tornano a governare all'ILVA. Il decreto di Monti impone la ripresa della produzione. E annulla i provvedimenti della magistratura. Andiamo a vedere anche la Repubblica. L'ILVA a rischio es proprio. Titola. Il quotidiano. In apertura. Fabbrica riaperta per decreto. Scontro con la procura di Taranto. Poi la politica. Primaria e vigilia di fuoco tra Renzi e Bersani. Temo. Brogli. La replica. Sabotate. La democrazia. C'è spazio anche per Berlusconi. Scrive la Repubblica. Che affossa la riforma elettorale. Dalla Repubblica al messaggero. L'ILVA non si deve fermare. Varato il decreto. Impianti in funzione. Durante la bonifica. Come potete vedere. Bene o male. È lo stesso disegno di pagina. Di taglio medio. Finiscono le primarie. Il ballottaggio. Renzi attacca sulle regole. Bersani. Non rovinare tutto. La stampa. Apre con una notizia diversa. Persi in un mese. 100.000 posti. Quasi 3 milioni disoccupati. Tasso all'11,1%. Record. Tra i giovani. Alla 36,5%. Parla la Camuso. Dice. L'anno prossimo andrà peggio dunque. Previsioni decisamente pessimistiche da parte della CGL. Il giornale. I domiciliari persi all'usti. Noi restiamo liberi. Il direttore resiste alla guida del giornale. Vengano a prendermi. E come dicevamo ha passato un'intera nottata in redazione al giornale. Sulle 24 ore disoccupazione all'11,1%. Tra i giovani balza al 36,5%. Ai massimi storici part-time 3,8 milioni. E precari 2,8 milioni. I dati Istat. Su ottobre mai così alti da 20 anni. Terminiamo con la gazzetta dello sport. Faraone più Aiutino. El Sharawi ne fa due. Ma l'1-1 è in fuorigioco. Ieri sera in anticipo con il Catania. Poi il Milan di Laga in 11 contro 10. Il Catania passa in vantaggio con le grottaglie su corner. Prima di cedere alla distanza 3,1. In alto Juve-Torino. Ci siamo. Ripartenza o paura? I Granata non festeggiano con un successo dal 1995. Bene. Come sempre con lo sport terminiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona fine settimana. Vi ricordo alle 14 il TG con tutte le ultime notizie. Arrivederci. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie a tutti